All'interno di Netflix in Cloud è disponibile anche il deposito verso la Suprema Corte di Cassazione. Per poterlo fare, bisogna inserire nella tipologia della pratica Cassazione, spostarsi poi nella sezione giudiziale ed inserire come autorità Corte Suprema di Cassazione. Per completare il deposito, basterà eseguire le stesse operazioni che si fanno sempre per qualsiasi altra tipologia di deposito telematico su Netflix in Cloud. Nella sezione Documenti caricare i documenti e proseguire poi con il deposito. Nella sezione Atto del deposito telematico, premendo il tasto Mostra tutti, saranno visualizzabili tutti i tipi di deposito disponibili per la Cassazione. Firmare ed inviare il deposito Questo è il deposito verso la Suprema Corte di Cassazione di Netflix in Cloud.